Buongiorno a tutti. Come già sapete probabilmente la Commissione europea ha approvato formalmente il piano di ristrutturazione di Banca Montepaschi di Siena con aiuti di Stato. L'aumento di capitale è precauzionale perché la Banca è solvibile rispetto a tutti i requisiti di patrimonio previsti dalla BCE. Tuttavia sappiamo anche che i test dello scorso anno evidenziano il rischio che una grave crisi economica potrebbe danneggiare il patrimonio della Banca. Quindi l'aumento di capitale serve a mettere la Banca in grado di resistere anche in questa eventualità. Il risborso complessivo dello Stato sarà di 5,4 miliardi di euro. Lo Stato ne sottoscrive direttamente 3,9 e il resto dell'aumento di capitale deriva dalla conversione dei titoli subordinati detenuti da soggetti istituzionali. Ci tornerò tra un attimo quando finisco le mie osservazioni, ma è chiaro, vorrei che fosse chiaro, che si tratta di un risultato estremamente importante per la banca, ma direi per tutto il sistema bancario italiano, ed è un ulteriore elemento di svolta dopo l'accordo ottenuto più o meno una settimana fa per le banche veneti. Il piano di ristrutturazione di Banca Montepaschi di Siena sarà discusso in dettaglio domani in una conferenza stampa della Banca, dell'amministratore delegato e del Presidente che sono qui con me, quindi per adesso non mi ci soffermo. Però ricordo che questo piano dà certezze, dà un orizzonte credibile di sostenibilità di una banca che avrà un livello di capitale molto importante, è un piano che implica l'eliminazione delle sofferenze, la banca entro la prima metà del 2018 cederà quasi per intero l'ammontare delle sofferenze per un valore lordo di più di 28 miliardi. Ci saranno accantonamenti sui crediti deteriorati e il piano si baserà su stime prudenziali dell'economia, quindi sarà un piano sostenibile e prudente. Questo intervento permette di non scaricare sui contribuenti il costo dei salvataggi e imitato del denaro dei contribuenti. Ci saranno misure di ristoro dei risparmiatori su cui non mi soffermo, eventualmente potranno essere dettagliati dal dottor Rivera che è qui con me e ricordo che, come dicevo prima, questa è una tappa estremamente importante di un'azione che il governo ha intrapreso da qualche anno, direi da quando è nato il governo precedente, per rimettere tale sicurezza il sistema bancario italiano. Questo obiettivo è stato perseguito con azioni di diversa natura, misure di riforma strutturale che hanno coinvolto le banche popolari, che hanno coinvolto le banche di credito cooperativo, interventi per facilitare lo smaltimento delle sofferenze, come l'introduzione di un sistema di garanzie, le GAX, con pieno sostegno della Commissione europea, la velocizzazione delle procedure concorsuali che facilitano lo sviluppo di un mercato secondario e lasciatemi anche dire che i dati del 2017 mostrano un'accelerazione della cessione delle sofferenze e quindi, a mio avviso, indicano chiaramente l'avvio di un mercato secondario che anche in un contesto di crescita più sostenuta faciliterà ulteriormente la stabilizzazione del sistema bancario. La operazione che oggi viene approvata formalmente con Montepaschi di Siena è un'operazione che è assolutamente, ovviamente, lo dico ovviamente, ma lo ripeto, casomai ci fossero dei dubbi, pienamente in regola con le disposizioni europee, è un'operazione prevista nell'ambito del quadro della BRRD di ricapitalizzazione precauzionale, è stata applicata al caso di Montepaschi, perché nel caso di Montepaschi erano valide le condizioni per poterla applicare. In altri casi questo non è stato invece possibile, in altri casi si sono in un'ate misure, anche se pienamente in coerenza. Vorrei dare brevemente la parola al Presidente Falciai e all'amministratore delegato Morelli come anticipo di quello che poi potrà essere discusso a livello più tecnico, ma ripeto, scuserete se lo dico due volte, è un momento di svolta molto importante che beneficerà le banche e la banca coinvolta, beneficerà il sistema bancario, anche se non mi piace essere frettoloso nel dare giudizi sui numeri, in questi giorni c'è un visibile effetto positivo sui mercati, come se ci fosse un senso di liberazione da una situazione che per troppo tempo aveva caratterizzato il sistema bancario italiano e che adesso comincia a essere veramente alle nostre spalle. Grazie. Grazie. Oggi è una giornata importante per la banca e penso anche per l'Italia. Proprio in questi giorni viene a partire sui 12 mesi dallo stress test. Io chiamo quest'ultimo anno per la banca del mondo dei fatti l'anno corribili, che è stato sicuramente uno degli anni più... Dicevo, per noi quest'ultimo anno, quello che è cominciato a giugno dell'anno scorso a valle degli stress test, dell'esito degli stress test è stato veramente un anno sorribile dove effettivamente abbiamo avuto la totale consapevolezza di essere l'epicentro della crisi bancaria italiana e non solo italiana. E questo ci vestiva di una responsabilità che non potevamo eludere. Devo dire che in questo anno il CDA del Monte dei Paschi, il top management, hanno mostrato una grande competenza e una grande compattezza. Giusto per darvi un ordine di grandezza dello sforzo profuso, negli ultimi 18 mesi abbiamo tenuto 54 consigli di amministrazione, abbiamo preso decisioni rilevanti, importanti, in un progetto che è veramente complesso, che è articolato nella vendita dei non performi in Londra, le sofferenze, in un aumento di capitale importante, in una conversione delle obbligazioni junior subordinate in equiti e con tanti aspetti collaterali. Quindi aspetti sostanzialmente difficili che dovevano essere resi e conciliati in un'unica operazione. Devo dire che in questo ambito è stato fondamentale il rapporto con le istituzioni, che mi sento di poter dire affermare assolutamente produttivo ed efficace. E a questo punto due parole sul futuro. La banca che viene, che verrà, è una banca che sarà sicuramente molto solida patrimonialmente, avrà un piano di azione incanalato verso una notevole efficienza. a mio avviso sarà una delle banche più solide sul panorama italiano e probabilmente anche europeo. E soprattutto l'intervento dello Stato, che è stato fondamentale fino adesso, ricordiamoci, sarà temporaneo, nel senso che è auspicio di tutti che l'intervento dello Stato si concentri in qualche anno e poi possa essere anche proficuo per i conti pubblici. Buonasera a tutti, io faccio una battuta molto veloce. Come diceva il Ministro, noi domani mattina alle otto e mezza presenteremo il piano in dettaglio, a seguire farò una conferenza stampa sul contenuto del piano. Quindi veramente una battuta. A gennaio io avevo detto, iniziando il percorso di confronto con la Commissione europea e con la Banca centrale europea, ovviamente in accordo con le istituzioni italiane, che l'obiettivo del management era quello di arrivare a negoziare e produrre un piano che doveva assolutamente mettere la banca in condizione di poter riprendere un cammino, di valorizzare una presenza territoriale molto forte e consolidata, desse di nuovo a tutti i dipendenti del Monte dei Paschi, la possibilità di poter lavorare in un contesto tra virgolette normale. Il motivo per cui sono passati diversi mesi da quando abbiamo iniziato le interlocuzioni è perché, come spesso succede in questi casi, ci sono stati dei confronti con i nostri interlocutori molto serrati, molto approfonditi. Qualcuno ha anche detto che su alcune posizioni non eravamo d'accordo. Io credo molto obiettivamente, ed è una delle cose che mi hanno chiesto e a cui io ho aspettato a dare risposta fino a questo momento, è sempre la norma in casi come questo che ci siano visioni differenti, ci siano prese di posizioni differenti. Alla fine siamo arrivati a Dieno, che come diceva il Ministro Padoan e il Presidente Falciai tengono conto di quelli che sono stati gli input dei nostri interlocutori, Commissione Europea, BCE, ma soprattutto tengono conto di quelle che sono le istanze della banca da un punto di vista operativo, economico ed industriale. Avrete modo domani di vedere e di discutere con noi i contenuti del piano. Ci sono degli obiettivi che sono raggiungibili, ci sono degli impegni da un punto di vista dell'efficienza, dell'assetto patrimoniale e del conto economico della banca che vanno rispettati. Ripeto e chiudo, il nostro pure, il management, il Consiglio di amministrazione ha visto come la banca ha reagito ed ha agito in questi ultimi nove mesi. Io parlo dei nove mesi perché sono nove mesi che sono la guida della banca. Se i dipendenti, i clienti, le istituzioni, il contorno ambientale ha visto le strutture del monte riuscire a gestire un periodo come questo, io sono convinto che adesso che si sgombra il campo da quello che era una palese incertezza di carattere ambientale e regolamentare, il monte riprenderà un cammino che darà la possibilità a chi oggi mette dei soldi di poter avere da questo punto di vista delle soddisfazioni in futuro. Grazie. Buonasera, il Presidente Falcià ha detto e convinto che l'aiuto durerà, spero di citare testualmente alcuni anni. Siete ad oggi in grado di essere più precisi su, anzi ha detto pochi anni o alcuni, non ricordo. Quindi se siete in grado di essere più precisi sull'orizzonte temporale e al Ministro che ha citato il caso delle banche venete, notizia delle ultime 24 ore che nel partito di maggioranza ci sono posizioni quantomeno critiche dell'accordo raggiunto, ci sono moltissimi emendamenti presentati in Parlamento al decreto, quindi visto che c'è una clausola di recesso per intesa nel caso in cui il decreto non venga convertito ci può aiutare a capire che cosa questo implicherebbe, in altre parole se si sta parlando di un'approvazione to cure del decreto nell'attuale forma o se fino a che grado siete in grado di tollerare emendamenti eventualmente poi richiedere un voto di fiducia per assicurare l'approvazione del decreto. Ministro, buon pomeriggio, volevo chiederle se un dato però rispetto a quelli che diranno domani i vertici della banca ce lo può dire oggi, cioè in termini di risorse umane che sacrifici comporterà questo piano di strutturazione. Volevo chiederle anche se l'intendimento del tesoro azionista pubblico è di mantenere la quotazione della banca e se per la governance non se lei pensa di confermare l'ingegner Falciai che è qui con lei. Allora sul dibattito in Parlamento sul decreto legge relativo alle banche venete posso dire due cose. Uno, che ho massima fiducia nel fatto che il Parlamento si rende conto della importanza di questo decreto che ha una valenza relativa alla gestione delle banche venete che come sapete sono state liquidate e sono state prese in carico gli assets delle banche da parentesa con importanti effetti benefici sia per la regione che oltre, quindi sono fiducioso che si terrà conto di questo obiettivo e sono anche fiducioso del fatto che l'operazione banche venete che comprende evidentemente un ruolo decisivo importante di banca intesa si basa su condizioni anche oggettive che devono essere rispettate per far funzionare tutti i pezzi di questa operazione. Per quanto riguarda le altre domande, sulla strategia di aggiustamento della banca nel medio termine lascerei la parola stasera, se lo ritengono domani a conferenza stampa, al management della banca a cui vorrei approfitto per esprimere il mio ringraziamento e quindi ricambio i sensi di stima che ci hanno legato in questi mesi difficili. Qual era la terza domanda? Prego? La quotazione, noi intendiamo rimettere la banca assolutamente in piena carreggiata con il giudizio del mercato che non solo, non temiamo, ma pensiamo sarà positivo e sarà obiettivo della banca quello di massimizzare il valore della banca a beneficio degli stakeholders della banca, quindi questo è un obiettivo che sarà rapidamente perseguito. Per quanto riguarda la domanda sull'exit, volevo sottolineare che il piano che è stato oggi approvato dalla Commissione Europea è un piano che dura fino al 2021 e che presuppone quindi un'uscita dello Stato entro per la data. Questi sono i punti di riferimento che noi abbiamo, dopodiché chiaramente dipenderà anche dall'andamento del mercato e dall'andamento di tutto quanto il resto. Niente scudo che possa essere anticipato. Legato a questo direi che la valutazione sull'uscita del nuovo azionista è anche funzione di quelli che saranno i risultati che la banca otterrà nell'arco del piano. Come io ho detto in assemblea ad aprile il percorso di recupero di una redditività di un certo livello e il riappropri di una presenza commerciale e di masse di raccolta e impiego che la banca ha perso, sarà un percorso immediato, ma è ovvio che l'approccio del management è un approccio che sarà mirato da una parte a rispettare quelli che sono gli impegni presi con la Commissione Europea e la BCE in sede di discussione del piano e dall'altra di mettere il prima possibile, compatibilmente con quello che ho detto, l'azionista in grado di avere un ritorno. Tema risorse umane, noi come ho detto daremo i dettagli domani, parte dell'esercizio che abbiamo fatto e della discussione su cui ci siamo intrattenuti è stata ovviamente mirata alla gestione della struttura di costo della banca, domani avrete i dettagli, ma nel piano non sono previsti in nessun modo licenziamenti. Per quello che riguarda la quotazione, noi abbiamo un'interlocuzione con l'organo responsabile della vigilanza sui mercati, nel momento in cui verrà ripristinato un patrimonio conoscitivo uniforme e completo il titolo verrà riammesso a quotazione e così succederà per tutti le altre tipologie di titolo che sono state sospese, quindi inclusi i bond. Ministro Massimo Leoni, Sky TG24, volevo sapere se intende rispondere a un'accusa precisa di Michele Emiliano riguardo le due operazioni sia su MPS che sulle banche venete, quando accusa il governo di trattare i risparmiatori in queste due circostanze in maniera tanto difforme da non potere uno Stato permettersi questa difformità. La mia risposta è che forse molte domande sono basate su scarsa conoscenza dei fatti e delle regole che vengono applicate. Ribadisco che a questo tipo di domande io rispondo con una domanda, che qualcuno mi dimostri che nel caso delle venete, non credo ci siano dubbi, nel caso di Montepaschi si potevano trovare soluzioni migliori da tutti i punti di vista. Buonasera, Luisa Leone, Milano Finanza. Io riguardo la struttura dell'operazione volevo chiedere due precisazioni. Uno, se il capitale necessario è confermato 8,8 miliardi come era stato indicato questo inverno e due riguardo rimborsi per eventuale misselling a operatori retail, come si procederà? Se è prevista una struttura simile a quella delle banche regionali, quindi con un rimborso intorno all'80% e a carico di chi sarà questo rimborso, cioè se è del fondo interbancario o della banca? Grazie. L'entità complessiva della regolarizzazione è di 8,1 miliardi, il tesoro sottoscriverà direttamente 3,9 miliardi e poi riacquisterà azioni dal retail per un importo aggiuntivo di 1,5 miliardi. Quindi l'esborso finale del tesoro è 5,4 miliardi, il resto della regolarizzazione è fatto con la conversione dei subordinati istituzionali. Per quanto riguarda l'operazione di compensazione sul retail, la banca offrirà al retail che abbia le caratteristiche che sono indicate nel decreto una transazione, la transazione consisterà nella possibilità di restituire le azioni che risulteranno in possesso dei subordinati dopo la conversione, quindi dopo che sia stato fatto il burden sharing, restituirle in cambio di obbligazioni senior, di importo corrispondente all'investimento effettuato dal risparmiatore retail. Il 100% dell'investimento, dell'esborso, di quanto pagato all'atto dell'investimento da parte dell'investitore retail. La gestione di risparmiato con l'Europa rispetto al fabbisogno di capitale è sceso rispetto agli 8,8 miliardi, a 800, giusto? È sceso e anche questo farà parte dei dettagli che saranno dati domani. Domani noi daremo un'articolazione precisa di come si è partiti dagli 8,8 che ricordo era la stima di un fabbisogno di capitale legato a uno scenario avverso sui dati 31-12-2015, quindi stress test 2016 e da come, da questo numero che è 8,8, si è arrivati poi ai dati a cui faceva riferimento Alessandro Rivera. Buongiorno, Gianni Trovati sulle 24 ore, la mia domanda sviluppa la precedente. Sul piano operativo ottenuto appunto il via libera, ora occorrono due interventi, due decreti almeno immagino, uno per l'aumento di capitale, l'atto tesoro e l'altro immagino per disciplinare operativamente la questione dei rimborsi, degli indemnizi agli investitori retail. Volevo capire orientativamente quale tempistica prevedete per i due decreti e nel decreto sul rimborso del retail, ci saranno dei, cioè sono stati diciamo negoziati con la UE dei vincoli oppure il misselling si presuppone automaticamente diciamo a carico di chi investitore retail di là i titoli subordinati. Grazie. Allora come tempistica nell'immediato occorrerà fare un decreto in cui si dispone il bar del sharing, quindi la conversione dei subordinati sia gli istituzionali sia i retail in azioni e subito contestualmente in realtà si farà il decreto che dispone la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del tesoro e questa sottoscrizione avverrà nel mese di luglio. Quindi è un qualcosa che ha una tempistica molto ravvicinata. La invece riacquisto delle azioni che sono nelle mani del retail post conversione, post burden sharing avverrà in autunno perché ovviamente occorrerà che il monte presenti l'offerta di transazione e che i subordinati retail decidano di aderire a questa offerta. In funzione dell'adesione poi il tesoro provvederà a riacquistare queste azioni che ovviamente saranno già state messe perché quel capitale viene creato con il decreto di bar del sharing da parte del tesoro. Per quanto riguarda i vincoli la situazione in questo caso è diversa rispetto a quella delle banche venete. Nel caso delle quattro banche e delle banche venete si usano degli indici presuntivi di presenza di misteri individuati nella legge. In questo caso sarà il consiglio di amministrazione del monte a valutare i rischi legali connessi alle operazioni condotte e quindi su questa base fare un'offerta di transazione. Buonasera Ministro, io a questa domanda vorrei sapere sulla base di questa operazione quant'è esattamente la quota che il tesoro avrà nel capitale del Monte Paschi. Un'altra domanda che vorrei fare è relativa alla possibilità per lo Stato di avere un guadagno a lungo termine nel senso sulla base del livello di dismissione dei non performing loans in altri episodi, in altre crisi bancarie che abbiamo avuto, siamo sul 20%, è compatibile con una possibilità di ottenere attività. Grazie. La prima domanda è da 70%, 7,0. Un errore statistico ma lo concederete. La seconda domanda richiede un aggiornamento un po' più articolato. Quello che io penso è che se si proietta nel giro di un medio periodo, cioè nel giro di qualche anno, l'evoluzione generale del mercato delle sofferenze, la situazione generale dell'economia, la profittabilità della base specifica della banca economica e macroeconomica, io sono fiducioso che il denaro pubblico non solo sarà recuperato ma forse sarà recuperato con un premio. Ma questa è diciamo una mia previsione assolutamente soggettiva basata però su una proiezione di uno scenario moderatamente favorevole nel medio termine. Sì, in realtà la domanda era appunto quanto avrà il tesoro, ma immagino che il 5,4 miliardi di esborso per il tesoro siano inferiori rispetto ai quasi 6 di cui c'era parlato perché è diminuito l'importo dell'aumento di capitale. E quindi però rimane fermo al 70%, cioè diminuita la quota che ci mette il tesoro però rimane fermo al 70%? Sì, la diminuzione dell'importo finale dell'esborso del tesoro è connesso naturalmente ai calcoli di cui riferirà domani la banca su come si arriva dagli 8,8 miliardi di stima della BCE e la stima del 70% che era già circolata era fatta diciamo sulla base di valutazioni molto preliminari. In questo caso la cifra che è stata data dal Ministro poggia su delle relazioni che sono state nel frattempo prodotte. Quindi è un dato sicuramente più vicino al vero di quanto potesse essere un numero circolato qualche mese fa. Per quanto riguarda le prospettive di valorizzazione dell'investimento vedo che questa domanda torna di frequente. Oltre naturalmente a quello che è stato già detto alla realizzazione del piano e quindi al conseguimento degli obiettivi di piano conta anche molto quello che è l'efficacia degli interventi che si stanno realizzando, compreso questo, compreso quello della scorsa settimana sulle banche venete, a rimuovere una notevole quantità di rischio incombente sul settore. Dalla scorsa settimana i prezzi di mercato dell'intero settore bancario italiano sono cambiati molto e sono cambiati perché i rischi di contagio, i rischi di coda, di una situazione di diffusione di casi problematici si sono drasticamente ridotti. Se mi passate l'espressione questo investimento oggi del tesoro nel Monte dei Paschi di Siena è oggi più conveniente anche perché è l'espressione. Buonasera Antonella Cinelli di Reuters. Volevo sapere se è possibile avere oggi senza aspettare domattina qualche dettaglio sulla struttura della cartolerizzazione. Grazie. Come le ho detto preferiamo dare tutti i dettagli e tutti i numeri del piano in maniera unica e sistematica in modo tale da dare una rappresentazione dei vari passaggi e degli impatti sia a livello di patrimonio, di bilancio e di conto economico. Quindi domani mattina alle otto e mezza avrete tutto. Buonasera signor Ministro. Due domande. Una riguarda proprio la gestione della banca e gliela faccio subito. Intenzione del governo e del ministero confermare l'amministratore delegato, il dottor Morelli qui presente? Una domanda. L'altra domanda riguarda invece un po' più l'Europa. Ci sono stati tre interventi, uno sulle quattro banche, uno sull'MPS e l'altro sulle banche venete. Ciascuno di questi interventi ha percorso una via diversa. Alla luce della sua esperienza, lei crede che gli strumenti, le direttive europee, siano efficaci o eccessivamente rigide? La prima domanda ho già risposto, quindi non è che ho cambiato idea negli ultimi cinque minuti. La mia risposta era io ho massima fiducia nel top management. La seconda domanda è una riflessione che piano piano stiamo cominciando a fare, dopo aver vissuto nella pratica giorni che come potete immaginare non sono stati essenzialmente così di relax. Adesso però ritengo e la sua domanda è molto opportuna che sia utile trarre tutte le lezioni possibili da queste esperienze italiane per l'Europa, perché oggettivamente sono state utilizzate in piena aderenza allo schema, alle regole, agli spazi consentiti dalle direttive europee, sono state applicate queste regole per ottenere risultati positivi per le singole banche, ma anche per il sistema bancario e per l'unione bancaria. Detto questo ritengo che bisognerà fare delle riflessioni ulteriori su molti temi, per esempio come si fa a gestire una crisi in emergenza con strumenti di liquidità che forse potrebbero essere migliorati, per esempio come si fa a coordinare meglio il lavoro di almeno tre istituzioni europee, l'SSM, la Commissione Europea in particolare la Digicomp e l'SRB che nel caso delle due Venete ha ovviamente dovuto anche lei, intesa come istituzione, prendere una decisione. Tutti questi aspetti dovranno essere valiati con attenzione e per trarne delle lezioni per il funzionamento dell'unione bancaria in futuro. Un primo esercizio di riflessione dettato però in questo caso non dall'episodio delle banche venete ma dall'episodio immediatamente precedente di Banco Popolare è già avvenuto in sede di Eurogruppo, quindi non sto svelando un segreto di Stato e siamo ai primi passi. Io sono convinto però che in ambito europeo ci sarà nei prossimi settimane e mesi una riflessione che è estremamente utile. Da questo punto di vista il caso italiano potrà essere utile anche ad altri Paesi membri dell'Unione Bancaria. De Francesco del Giornale. Volevo solo ritornare un attimo sulla questione relativa al decreto attualmente in Parlamento perché è vero che ci sono state proteste politiche però poi c'è anche una massa non indifferente di emendamenti che diciamo minacciano il percorso e quindi qual è il suo orientamento signor Ministro? Grazie. Anche in questo caso non ho cambiato idea negli ultimi dieci minuti. Il mio orientamento è che certo c'è un numero impressionante di emendamenti, come sapete bene chi di voi segue l'attività parlamentare questa non è una novità. Gli emendamenti sono spesso anche in decreti di tutt'altra natura molto numerosi. Continuo a dire che ho la massima fiducia nel saggezza del Parlamento nel dare via libera a un decreto che è importante per le banche e importante per il Paese. Grazie a tutti.